Novità in vista sul fronte delle autoriparazioni, un settore in costante evoluzione che si trova ora a vivere un momento di transizione. Cambiano infatti i requisiti per ottenere la qualifica di addetto gommista e addetto carrozziere. Le officine sono diventate una fusione. Prima c'era l'elettrauto, adesso c'è il meccanico, è diventato meccatronico. Sempre più imprese fanno sempre più servizi e su questi servizi hanno bisogno di alcune abilitazioni che vengano a mancare. Noi a livello nazionale stiamo lavorando proprio su questo percorso per poter far sì che le nostre aziende possano fare dei corsi di formazione per responsabili tecnici. A livello regionale sono già diversi anni che ci stiamo lavorando. Ultimamente abbiamo raggiunto un bellissimo risultato che è stato tra virgolette un fiero all'occhiello a livello nazionale che ci hanno portato proprio come esempio. Importanti risultati infatti sono stati raggiunti da Confartigianato Toscana Autoriparazione grazie anche ad un'incisiva azione effettuata presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Soprattutto in riferimento al regime transitorio in cui si trovano attualmente le imprese di autoriparazione iscritte alla Camera di Commercio prima del 5 gennaio 2013 e che possono esercitare ora tutte e tre le qualifiche di meccatronico, carrozziere e gommista purché frequentino con esito positivo i corsi professionali abilitativi previsti entro il 4 gennaio 2023. A tal proposito Confartigianato sta lavorando con gli uffici formazione per organizzare quanto prima dei corsi professionali per ottenere la qualifica richiesta così da tutelare il più possibile gli interessi e le richieste delle imprese associate. Momentaneamente ancora in Italia non ci sono dei corsi ben specifici per un artigiano che vuole diventare gommista e questo secondo me è una cosa da prendere subito atto della cosa perché viene a mancare un requisito del genere impossibile. Noi siamo in prossimità di organizzare dei corsi con la regione toscana per poter prendere dei requisiti per poter diventare gommista chi non ha i requisiti. Il responsabile tecnico può diventare tranquillamente un gombaio, un carrozziere o un meccatronico. E sempre a proposito di gomme ma questa volta dal punto di vista degli utenti finali ecco infine qualche accorgimento utile per tutti gli automobilisti per non farsi trovare impreparati in vista dei mesi invernali. Il consiglio diciamo più eclatante è portare la macchina dal proprio autoreparatore per fare un controllo livelli, pressione gomme, spazio di detergine cristallo per la sicurezza stradale e lì controllare i pneumatici, l'usura dei pneumatici, catena a bordo mi raccomando per evitare tilt in caso di neve come è successo anni fa.